. 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 Le nuove stranze di questa planta mostrano un colore oranzo, che rende una planta meravigliosa sia come un bambino e come un bonsai. Grazie al fallo delle letture, le stranze e i stranze sono a display, e, given il suo ragazzo, il stranze non è lignificato, ha anche questo bellissimo colore. Come potete vedere, la planta ha due stranze nella parte inferiore del stranze, che devono essere eliminati nel frano. Just as it will be necessary to make a first pruning to set the plant in the style that I will decide. The video ends here, please, subscribe to my tube channel, share my channel with your friends, and like the video to support me. Thank you, bye bye! Grazie a tutti!